Mr. Alessio Martino, 70, loro 20 termoli, questi sono i minuti così divisi nell'arco della partita. Buon termoli negli ultimi 20 minuti, però 70 minuti, diciamo che è stata una giornata no. Non sono d'accordo, però il risultato è chiaro. Credo che il termoli, primo tempo, abbia sbagliato i primi 5-6 minuti, in due scaglionamenti, perché ovviamente giocando in maniera viso a viso una squadra forte a mio avviso ha mostrato un po' il fianco e ha preso un gol troppo presto. Primo tempo credo che il termoli sia stato pericolosissimo, anche il Roma City in ripartenza, però credo che il termoli abbia meritato il pareggio due o tre volte con due o tre salvataggi del loro portiere, calcio d'angoli, eravamo lì per farlo. Ci sono stati tanti falli che hanno bloccato ovviamente la nostra forza. Fino al primo tempo abbiamo pensato di mettere un giocatore in più dietro per dare un po' più di compattezza, perché avevamo paura dei loro contropiedi perché ci giocavano in ripartenza, era una squadra valida. Invece abbiamo preso due gol troppo velocemente, ci hanno tagliato completamente le gambe, il morale è prendere due gol in 6-5 minuti è troppo mortifero per qualsiasi squadra. Il quarto non so se fosse fuorigioco, però credo che già lì stavamo giocando un buon calcio e non credo che abbiamo fatto le due reti perché loro hanno mollato la presa, ma credo che abbiamo fatto due reti perché le abbiamo meritate, forse meritavamo anche il terzo. Chi ha sbagliato di più è il termoli, ha perso 4-2 una partita, quindi la sconfitta, ripeto, come l'ho detto ai colleghi, è a un padre, è sempre quello che sono io, è la squadra e la vittoria a tanti padri. Mister, per la domenica prossima si ripartirà dagli ultimi 20 minuti, mezz'ora buona del secondo tempo del termoli, per cercare di riprendersi quello perso a Fano. Dobbiamo avere equilibrio, anche nelle aspettative, perché io non sono un allenatore che si nasconde, ma noi abbiamo fatto quattro partite e abbiamo giocato con la meno quotata che ha pareggiato col Campobasso e col Chiedi e l'abbiamo vinta. Potrebbero chiedersi l'Atletico Ascol di aver perso l'unica partita delle tre con Campobasso e con Chiedi, con la squadra meno quotata. Poi abbiamo giocato con la seconda dello scorso anno che aveva otto undicesimi. Abbiamo perso, non abbiamo detto una parola se non guardare la prossima. Attivo le abbiamo dominato, ci mancano tre punti, lo sappiamo tutti, non ci manca un punto, ci mancano tre punti e quelli forse ti scottano se la sommi alla sconfitta di oggi. Abbiamo giocato con una squadra che è stata strutturata per arrivare nei primi cinque e abbiamo giocato viso a viso, abbiamo sbagliato più di loro. In certi tratti siamo stati un po' polli, un po' presuntuosi, loro più scalti a fermare tanto il gioco. Però, ripeto, chi perde spiega, chi vince esulta. E la vittoria ha tanti padri e la sconfitta uno solo, che sono io. Però credo che è un po' ingeneroso quello che ho sentito dagli spalti, specialmente alla squadra, oltre che al sottoscritto perché ho le spalle, penso di avere le spalle larghe, mancano trenta partite. Il Termoli quest'anno si salverà, perché questo, se qualcuno ha qualche dubbio, il Termoli si salverà. Vogliamo farlo il primo possibile, dobbiamo essere più calmi, mancano trenta partite. E prenderci queste parole, dopo, fra venti giorni fa, sembrava che fosse arrivato Guardiola. Non è così. Il calcio ha bisogno di equilibrio, il Termoli deve avere equilibrio, altrimenti ci facciamo del male da soli.